e questo è il rettilineo che permette addirittura di arrivo qui si possono raggiungere velocità molto indifferenti ma ci stanno ancora le toppe dei lavori che furono fatti una decina d'anni fa quando spesero una cifra una cifra per fare i viali e adesso andiamo a vedere se hanno pulito il secchione segnalato ieri vediamo un po' vedi col bassone e col prosciutto gli passa la sede ok 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 ok